Siamo davanti a Stacchini, vicino tra Bagni e Guidogna, quindi Tivoli e Guidogna è il comune, la situazione di degrado che proprio esplode e abbiamo visto prima qualche fuoco, fuocolaio acceso sia in diretta che già brucia di notte e adesso andiamo a vedere qualcosa all'interno. Su questo ho chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per cercare congiunto con Tivoli per cercare una soluzione a livello ambientale, quindi trovare una soluzione che possa arginare quello che è il degrado che c'è qui dentro, dall'Ethernet ai fuochi che accendono la notte e che bruciano di tutto e di più. Vediamo se sta.